Daniele Bove, difensore centrale del Macchia di Senna, insomma ve la siete giocata davvero a viso aperto contro una squadra che sul piano tecnico forse stava meglio di voi? Da come è andata la partita io non direi che stava messa meglio di noi perché noi abbiamo affrontato la partita come tutte quante le altre. Ci è andato un po' male, abbiamo preso un palo con Buonano sul 2-2-1 che potevamo pareggiare la partita, mi hanno annullato personalmente a mio gol che è regolarissimo, potrete anche voi rivederlo. E li abbiamo messi sotto diciamo, secondo me per la classifica che c'è noi ce la possiamo giocare con tutti. Sull'episodio del gol annullato tu cosa hai visto esattamente? No, non mi ricordo se è un calcio d'angolo o non fa un calcio di punizione, il portiere ha chiamato mia e io mi sono fermato. Poi il portiere ha preso la palla in mano, l'escevolata e mi è arrivata a me sul destro che l'ho messa dentro. E lui ha fischiato prima che il portiere ha detto mia e l'albitro ha fischiato, è impossibile. Tornando comunque al vostro campionato, restate comunque fiduciosi per la salvezza? Sì, fiduciosi è poco, secondo me siamo proprio già salvi, almeno per me siamo già salvi perché siamo una squadra combattiva, una squadra ben messa in campo, una squadra che può fare bene. Grazie. Grazie. Grazie.